Ciao a tutti, sono Giulia, mi occupo di business analysis in Binova da circa un anno, con il nostro team di data science collaboriamo con Edoardo che è appunto un data science, fa un profilo sia matematico che informatico e siamo qua oggi per parlare insieme appunto di modelli matematici. Ciao Edoardo. Ciao, sì, io sono Edoardo, lavoro in Binova come data scientist da circa un anno e siccome parte del mio lavoro è far finta di essere matematico risponderò a questa breve chiacchierata. Allora, l'ispirazione ci è arrivata da alcuni articoli, non è la prima volta che escono, relativi al periodo che abbiamo appena passato, cioè quello del coronavirus. Una delle dichiarazioni che ci ha più colpito è stata quella del virologo Silvestri che ha dichiarato che i modelli matematici avrebbero fallito, dicevo non è la prima volta perché già nel 2014 con l'alluvione di Genova ci trovammo a leggere articoli che dichiaravano che i modelli matematici non avevano previsto appunto la bomba d'acqua che devastò Genova, quindi non siamo nuovi a queste dichiarazioni e oggi appunto vorremmo un pochino chiarire questa faccenda, questa annosa questione sui modelli matematici. Innanzitutto chiedo ad Edoardo che cos'è un modello matematico e a che cosa serve? Allora, modello è una di quelle parole come algoritmo, sistema che non ha una definizione precisa, però allo stesso tempo quando la usiamo capiamo abbastanza, ci capiamo su che cosa significa. Quindi diamo un po' una spiegazione generale. La realtà, il mondo che sta intorno a noi è molto complesso, è fatto da tanti oggetti che interagiscono tra loro in maniere molto intricate e essenzialmente di fronte a tutta questa complessità siamo impotenti, non riusciamo a spiegarla, non riusciamo a capire come funziona. Però possiamo fare delle cose, possiamo osservare, possiamo fare delle misurazioni, possiamo raccogliere dati e possiamo analizzarli. Quindi una cosa che possiamo fare è scegliere un segmento, un pezzettino della realtà che è sufficientemente, o riteniamo essere sufficientemente isolato da poter essere analizzato autonomamente e costruirne una rappresentazione concettuale, una rappresentazione astratta. E questa rappresentazione astratta è un modello. Finora la matematica non ci entra perché infatti non è necessario strettamente usare dei concetti di matematica per costruire un modello. anche una cartina geografica ad esempio è un modello e non usa almeno non esplicitamente la matematica. La ragione per cui si usa la matematica è una ragione di convenienza fondamentalmente. In primo luogo perché la matematica è un linguaggio estremamente sintetico che consente di rappresentare delle affermazioni, dei concetti anche molto complessi in pochissimo spazio, con pochissimi simboli. In secondo luogo perché la matematica è un linguaggio formale. Il linguaggio che utilizziamo per parlare normalmente ad esempio in questo momento è un linguaggio naturale. Un linguaggio formale nasce dalla necessità di definire esattamente con precisione che cosa significano le parole che introduciamo, di usarle sempre nella stessa maniera e di avere attraverso la costruzione di sistemi logici con determinate proprietà anche un concetto di deduzione che è assente dal linguaggio naturale. E la deduzione è molto potente perché essendo una cosa puramente simbolica ci consente di ricavare algoritmicamente diciamo in maniera costituita soltanto da operazioni sui simboli delle nuove verità a partire dalle premesse che mettiamo. E da ultimo perché avendo a disposizione i computer, gli strumenti di calcolo, è possibile anche quando le equazioni o comunque gli oggetti matematici sono impossibili o troppo difficili o intrattabili dal punto di vista analitico esplicito, gli strumenti di calcolo consentono di approssimare i risultati di queste operazioni anche in maniera molto precisa. C'è una parte della matematica che si occupa appunto di questo. Quindi questo è in sintesi una rappresentazione concettuale semplificata se vogliamo di un fenomeno empirico. Prendiamo il caso del coronavirus, no? E si sono tutti affannati a predire gli impatti. Generalmente comunque si fanno delle analisi magari sull'andamento economico a livello anche mondiale, no? Il coronavirus è un fattore del tutto imprevedibile all'interno di una valutazione, di un'analisi su quello che può essere l'andamento economico nell'anno, nel corso del tempo. Un fattore come il coronavirus è un fattore totalmente imprevedibile, un fattore esogeno non programmabile. Si possono ovviamente sempre considerare dei fattori esogeni e si devono fare nelle analisi finanziarie, funziona assolutamente così. Il coronavirus è veramente molto imprevedibile. Se voglio predire gli impatti, parliamo sempre di predizioni. Predizioni per definizione non si parla di qualcosa di esattamente esatto, passatemi questa doppia terminologia, ma comunque di stime, no? Per cui anche aspettarsi qualcosa che mi aspetto debba dirmi qualcosa di al cento per cento puntuale non è neanche lo scopo della scienza dei dati, no? Quindi abbiamo parlato più volte di questa cosa, dire che i modelli matematici falliscono, magari correggiamo le assunzioni che abbiamo fatto per fare il nostro modello matematico, no? Bisogna ragionare meglio sul punto di partenza, sui tipi di dati che ho all'inizio, sulle analisi stesse. Cosa ne pensi tu? Ci sono tante cose. Allora, innanzitutto, dire i modelli matematici hanno fallito è una frase che non è neanche falsa, proprio non ha senso, perché un modello, come abbiamo detto prima, è una rappresentazione semplificata, una rappresentazione astratta, se vogliamo un gioco formale, con delle assunzioni e delle deduzioni da queste assunzioni iniziali all'interno di una certa logica. Quindi non può fallire, a meno che non sia stato costruito male. Quello che fallisce è la sua applicabilità nella realtà. Quando costruiamo dei modelli, non li costruiamo per divertimento. Quello che vogliamo fare è costruire, passatemi la parola, un isomorfismo tra il modello e la realtà. Cioè vogliamo associare dei fenomeni della realtà a degli oggetti all'interno del modello e vogliamo avere una cosa che torna indietro, cioè che prende degli oggetti del modello e li fa diventare previsioni all'interno della realtà. Quindi se questa associazione si rivela imprecisa, il modello non è adeguato. Quindi la ragione per cui non è adeguato è che le assunzioni che si sono fatte per costruirlo sono delle assunzioni che non corrispondono ai dati reali, non corrispondono alla realtà dei fatti. Nel caso delle imprecisioni sui modelli del coronavirus, questo è dovuto al fatto che non sono modelli con una precisione simile a quelli che si usano ad esempio in fisica, nei modelli della meccanica classica, ma anche della meccanica relativistica non importa, sono dei modelli più simili a quelli che si usano nelle scienze sociali, dove ci sono dei grandi margini di errore. Nel caso del Covid c'erano anche dei dati a priori, a partire dai quali questi modelli sono stati costruiti, che erano abbastanza sporchi. Quindi questo ci porta a costruire dei modelli che necessariamente hanno dei margini di errore più ampi. Questo non vuol dire che i modelli siano sbagliati e non vuol dire soprattutto che i modelli siano inutili. Sul fatto delle previsioni economiche, il Covid è il famoso cigno nero, una cosa che si usa a proposito, ma stavolta quasi è azzeccata, nel senso che è un evento grande a livello di impatto, ma allo stesso tempo completamente imprevedibile. Non c'era modo in cui un modello sensato avrebbe potuto dire che nel 2020 arriverà il Covid farà i danni che ha fatto, perché era un unknown, era un qualcosa per cui non esiste la possibilità di costruire un modello. No, assolutamente. Ascolta, quando lavoriamo insieme, ogni volta che viene fuori l'idea di un modello, mentre facciamo analisi, poi testiamo il modello stesso. A che cosa servono e cosa sono questi test? E i test sono l'equivalente di un esperimento. Cioè, quando noi costruiamo un modello, facciamo appunto, come si è detto, delle assunzioni e speriamo che queste assunzioni si traducano in un modello che dà delle previsioni che sono accurate nel mondo reale. Però non possiamo saperlo a priori, cioè il modello non può dimostrare la sua stessa correttezza, perché si basa appunto su intuizioni nostre, su ipotesi nostre. I test sono delle maniere di verificare che queste intuizioni siano fondate e che il modello dia delle previsioni che corrispondono alle osservazioni che possiamo fare. Le maniere di fare i test dipendono un po' dagli scopi. Essenzialmente ci sono dei test statistici che verificano se un'ipotesi è fondata o meno, in un certo senso formale, preciso. E un'altra tipologia di test è quella di selezione del modello, cioè molto spesso siamo in situazioni in cui ci sono più modelli plausibili ed è necessario fare delle prove per vedere quale modello si adatta meglio ai dati. In linea di principio andrebbero entrambi bene, ma magari uno dei due è più adatto alla situazione in questione. Non c'è altro da fare che provare, quindi a questo serve. Allora Edoardo, ci sono passata anch'io fino a quando non ho avuto poi l'opportunità di studiare Data Science all'Università di Pisa e lavorare con il team di Binova. Direi che dai primi anni di scuola ti vengono insegnate le basi della matematica, poi passi alla fisica, se fai qualcosa di vagamente scientifico, anche economia si studia un po' di statistica. Ogni tanto, anche quando leggo, mi sembra che vengano un po' riportate le stesse cose, cluster in gradi in bus, test di validazione, quando si parla di scienza dei dati, di machine learning. Quello che ho notato io, al di là di tutto, al di là poi ovviamente di approcciarsi magari alla Data Science, quindi magari di studiarla all'università o comunque di lavorare con i dati, è che non viene, cioè manca il passaggio antecedente, al di là appunto di poi approfondire queste tecniche di machine learning. Cioè la trasmissione agli individui di un approccio scientifico, di avere un metodo. Quindi ok, ad esempio, è un po' come appunto a scuola, no? Io studio il clustering, generalmente il clustering va bene per la segmentazione di mercato, però magari prima di dire ok, faccio il clustering, ad esempio il K-Means potrebbe essere una buona tipologia da utilizzare, ma va bene nel mio caso, è un buon metodo. Cioè posso fare ragionamenti ulteriori, andare oltre, no? A volte anche questo accade anche con delle banali operazioni. Voglio calcolare il ROI all'interno di un'analisi, il ROI return on investment per quanto riguarda magari una campagna ai clienti. Devo prendere dei dati, c'è l'equivalente, scusate l'equivalenza, ci viene detto come calcolare il ROI, però ho i dati giusti per farlo, quell'equivalenza va bene, si può fare un ragionamento ulteriore partendo non tanto solo dalla banale operazione, ma anche dallo stesso significato di quell'equivalenza, di quel valore. Ma sì, allora, se stai parlando del fatto che la scuola fa un pessimo lavoro nell'introdurre questi concetti, sono d'accordo. Però è vero che certi concetti di base vengono introdotti perché sono effettivamente la base appunto di strutture poi più complicate e servono in un certo senso per introdurre un neofita ai particolari tipi di ragionamento, ai particolari modi in cui quella disciplina particolare funziona. Quindi di per sé quello non è un problema e non è sbagliato. E anzi, una cosa molto intelligente quando si vede un problema nuovo è cercare di ricondurlo a qualcosa che si sa. Quindi cercare di appunto riutilizzare la conoscenza che già esiste il più possibile e applicandola appunto a un nuovo caso, ad un nuovo problema. È necessario tenere un po' la mente aperta per cercare di evitare di fossilizzarsi su certi particolari metodi, credendo che abbiano applicazione universale, spesso anche sbagliando perché questi metodi hanno delle ipotesi che spesso nella realtà sono tutt'altro che vere. Ma è un po' un problema di avere un martello in mano e pensare che tutto sia un chiodo. Gli strumenti sono applicabili ognuno nel suo dominio, è importante saper scegliere lo strumento giusto per il problema in questione. Qualche giorno fa è uscito un nostro articolo sulla figura del data science, un articolo piuttosto provocatorio, un po' particolare. Il nostro team è un team in fieri e trovo che uno dei nostri punti di forza sia l'eterogeneità, perché comunque unisce persone che vengono dal mondo della matematica, dell'informatica, che hanno comunque skills nell'ambito anche del marketing, della comunicazione, economia, è veramente un gruppo molto forte, eterogeneo. E ritengo appunto che sia veramente un punto di forza nella data science questo, perché spesso si pensa che un po' un data science sia un soggetto unetrino, ma un po' improbabile, che abbracci qualsiasi scienza e soprattutto, come hai parlato prima di domini, possano appartenergli tutti i domini, da quello magari medico a quello matematico, a quello economico. Ritieni che appunto questo sia questa eterogeneità di cui sto parlando, visto che anche noi abbiamo un approccio diverso, io ho uno sguardo più di business, anche se poi ho fatto un percorso in cui mi sono approcciata alla data science, tu hai già un approccio molto più scientifico, veramente rigoroso. Ritieni che questa eterogeneità sia un punto di forza e un valore aggiunto? Sicuramente sì, perché i problemi che ci troviamo ad affrontare, che sempre di più nel futuro ci troveremo ad affrontare, non sono problemi di matematica o di economia o di fisica o di quello che sono o del dominio in particolare, sono dei problemi. Abbiamo dei dati e dobbiamo cercare di capire il modo migliore di fare quello che ci viene chiesto, di risolvere un problema. Quindi vale un po' tutto, cioè non c'è una prospettiva che a priori è la prospettiva giusta, è la prospettiva ottima. Anzi, molto spesso è interessante cercare di mettersi nei panni di chi ha una prospettiva diversa dalla tua per cercare di capire ma questa persona cosa vuole trovare da questo problema, cosa vuole tirare fuori da questo problema, dove vuole arrivare facendo un'analisi di questo tipo. Ed è un modo per avere delle buone idee anche nel proprio campo. È un po' come quando leggiamo gli annunci di lavoro, abbiamo sorriso più volte su questi aspetti, cercano un laureato in economia, però va bene anche in fisica, ma va bene anche in matematica, in ingegneria, si deve saper programmare in tutti i linguaggi del mondo come se un buon programmatore non sapesse poi approcciare magari un linguaggio che non ha mai visto, molta confusione anche sul concetto di linguaggi, figuriamoci su quella di strumenti o di tools. Ora capisco se qualcuno deve fare qualcosa nell'immediato, in totale autonomia, c'è molta fretta. Allora gli puoi chiedere, ok, devi conoscere ad esempio uno strumento, mi viene in mente Google Analytics, ma è un nome a caso. Quando invece una buona mente flessibile, più che altro gli dovresti appunto, forse uno dei requisiti che bisognerebbe mettere è la flessibilità. Se hai di fronte una mente flessibile, bene o male, in un tempo, in un lasso di tempo ragionevole, uno strumento lo imparà ad usare. Certo, se hai bisogno di un buon programmatore non puoi prendere sicuramente un soggetto che assolutamente non ha mai programmato o non sa, non ha padronanza dei linguaggi di programmazione. Questo no, però a volte effettivamente leggiamo delle robe, no? C, C++, Java, c'è tutto. Quando appunto vediamo, abbiamo avuto l'opportunità di vedere anche con te, magari puoi non aver visto prima in maniera approfondita un determinato linguaggio, ma sei molto bravo nella programmazione e ti viene molto facile anche approcciarti a nuovi linguaggi. Diciamo che è un po' particolare questa cosa. Non è una questione di essere bravi o no, cioè è una questione di avere delle basi teorie, avere un approccio che ti consente di imparare il linguaggio di programmazione che ti serve. Se si studia un po' di teoria, se si capisce un po' come funzionano le cose a livello più profondo, si capisce che in fondo i linguaggi di programmazione non sono così diversi l'uno dall'altro e ci sono dei concetti molto ricorrenti e avendo capito i concetti è molto più facile prendere in mano una cosa piuttosto che un'altra. Per quanto riguarda il discorso del team, come ho detto prima, è più un discorso un problema di prospettiva che non di figura. C'è un problema da risolvere e bisogna fare quelle cose e vale un po' tutto, cioè chi è in grado di farle le fa. Non è necessario chiudersi dentro degli schemi per cui chi sa fare il bilancio non sa programmare, anzi è proprio il contrario. c'è sempre più commistione in questo senso, specialmente nelle scienze sociali, per dire l'economia, in economia si usano sempre di più degli strumenti anche a livello di programmazione. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Siamo rimasti, diciamo che chi come me è nella fascia d'età tra i 30 e i 40, purtroppo viene da una scuola che era ancora un po' indietro, diciamo, in questo senso, quindi o si aggiorna, come ho fatto io, che mi sono appassionata a determinate materie, quindi poi ho avuto la possibilità di approcciarmi. In B9, appunto, come sottolineo, c'è un team veramente molto eterogeneo, con competenze variegate, fortissime, in ambito tecnico, quindi c'è molta opportunità di imparare. Però le nuove generazioni, le nuove leve, mi auguro che abbiano, da un lato a prescindere da che cosa studiano, da lettere a matematica, abbiano un po' più di consapevolezza di che cos'è l'approccio scientifico e che possano utilizzare anche tutti gli strumenti a disposizione. Non per questo che una persona, appunto, che viene dal mondo umanistico, non sa che cosa può essere un SQL oppure un linguaggio di programmazione, anzi, quando si fa, si parla di natural language processing, a maggior ragione, chi meglio di un umanista magari ha a volte anche quella sensibilità di cogliere certe sfumature, quindi mi trovi con cuore. Sì, ma anche lì, per esempio, nella linguistica. La linguistica, quando arrivò Chomsky, rinacque praticamente, era una disciplina che estentava e completamente rifiorita, anche con un approccio più formale. Quindi è assolutamente naturale, c'è anche a livello proprio accademico una commissione di questo tipo. Succede sempre di più e non c'è ragione di pensare che smetta di succedere. Assolutamente. Senti, Binova sta lavorando su nuovi prodotti e nuovi servizi alle aziende. Siamo molto proiettati verso veramente un'evoluzione, una concretizzazione di quello che è il processo di digitalizzazione e la commissione, come abbiamo detto adesso, dell'approccio scientifico senza mai prescindere dall'aspetto umano, che è dato da intuizione, pensiero critico, che prevede anche un coinvolgimento attivo degli stessi clienti. Che differenza c'è, se possiamo coglierla, tra i prodotti, a parte che il nostro team di marketing e comunicazione non farebbe mai questi tipi di slogan, però proprio perché intorno alla data science, ai modelli, c'è tutto questo mistero, chissà che cos'è, accade spesso che ci sia una corsa a dire che comunque si fa data science, cioè tutti la devono fare. Ti propongono magari anche dei prodotti dicendoti non avrai più bisogno di un data scientist, di un business analyst, o addirittura appunto il machine learning per le tue analisi non potrà più essere più semplice di così. Che differenza c'è, diciamo, tra una linea meno così fatta di slogan come questa, una linea un po' più concreta, fatta di cose, insomma, che ha un approccio un po' più concreto, ecco. Questa è una pubblicità, né di più né di meno, è una pubblicità che ti dice quello che ti deve dire perché è una pubblicità, quindi va semplicemente ignorata. Ora, ci sono dei tentativi anche molto ragionevoli e lodevoli fatti da persone molto brave in merito al cosiddetto AutoML, cioè al tentare di costruire dei metamodelli che conoscono dei modelli statistici di machine learning, un certo insieme di modelli e automaticamente prendono un dataset, lo puliscono, applicano una serie di questi modelli che calcolano essere opportuni, ne scelgono uno in base a qualche criterio e producono automaticamente un'analisi. Ora, strumenti di questo tipo sono assolutamente lodevoli e possono essere d'aiuto per tutti, anche per i tecnici, ma vanno accettati nella loro limitatezza. Sono degli wizard glorificati in un certo senso, cioè che finché va tutto bene sicuramente producono delle cose sensate. Ecco, quando ci sono dei problemi o c'è da modificare qualcosa o il problema non è esattamente quello che ti aspetti, è necessario il tecnico che ci mette le mani dentro, perché non esiste uno strumento, non esiste un tool che ti dà la possibilità di fare tutto quello che vuoi, calcolare tutto quello che ti pare, perché l'unico strumento che ti dà una flessibilità del genere è un linguaggio di programmazione, ma allora siamo punte a capo. Quindi la soluzione a tutti i problemi dispiace ma non esiste. Bisogna avere l'onestà intellettuale di accettare queste soluzioni nuove nella loro parte interessante e anche nella loro limitatezza e capire effettivamente la maniera in cui possono essere integrate in un workflow sensato. Anche perché molto spesso, direi nella maggior parte dei casi, tutto ciò che è un'analisi, magari sotto c'è un modello, va poi raccontata, va poi interpretato il risultato ancora prima e poi raccontata. La parte di racconto, l'abbiamo vista anche noi, non è sempre così semplice e va saputa trasmettere a una platea che può essere abbastanza differenziata. Edoardo, io ti ringrazio per la chiacchierata, è stato un piacere. Grazie a te. Spero che abbiamo chiarito qualche cosa di più sul mondo della data science e dei modelli. Tra l'altro nell'ultima risposta hai iniziato anche a parlare di AutoML e chissà che non possa essere il contenuto di uno dei nostri prossimi podcast. Grazie a tutti per averci seguito, buona giornata.